Dopo il primo stop di stagione il Sovere indiscusso capo classifica si prepara ad affrontare il Caprino, una squadra tosta e determinata. Abbiamo molta voglia di rivincita, abbiamo questo turno in casalingo con una squadra che sta bene in salute con il Caprino, una squadra che gioca alla morte per cui dovremo sicuramente fare una grossa partita per portare a casa tre punti importanti domenica prossima. Credo che la cosa più importante per noi sia comunque affrontare la partita con una certa serenità, con meno nervosismo perché nelle ultime partite purtroppo abbiamo avuto troppe espulsioni e troppe ammunizioni, però di contro credo che sicuramente dovremo buttare il cuore oltre l'ostacolo perché servirà veramente tanta grinta, tanta determinazione, tanta cattiveria e soprattutto spero di riuscire a recuperare qualche giocatore perché avrò purtroppo qualche assenza. Sicuramente avrò gli due squalificati, i due ragazzi, il giudice e il Marchetti per espulsione e per quarta ammunizione, sicuramente non potrò recuperare ancora il Trivella che sta recuperando, è iniziato ad allenarsi, Silini sarà ancora fuori, sicuramente potrà essere della partita a Brescia che rientra dalla squalifica e credo che per noi comunque la davanti sia un giocatore importante in questo momento e spero che possa dare molto domenica a questo sovere. È ancora strano forse che siamo ancora primi dopo due giornate in cui abbiamo fatto un pareggio e una vittoria, ma questo sta a significare che il campionato è molto equilibrato, che ogni partita ha la sua storia, che non è assolutamente scritto niente, pertanto lo sappiamo e cercheremo di non guardare molto la classifica, anche se è chiaro rimanere davanti è sicuramente molto importante, però gli avversari sicuramente quando affrontano la prima della classe giocano sempre alla morte, quindi non dovremo assolutamente prendere sotto gamba, ma credo che non sia il caso, consigliato che domenica abbiamo preso una scopola da Ponte Ranica, credo che ci abbia insegnato qualcosa, quindi spero che i ragazzi domenica facciano una grossa partita e che riescano a portare a casa i tre punti.